Buongiorno a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Come sempre un saluto da Max e parliamo di un'intervista che c'è stata, che ha fatto Ornella Muti che riesce a raccontarsi al settimanale dicendo un sacco di cose interessanti. Racconta praticamente che Francesca Rivelli, questo è praticamente il suo vero nome, è la stessa donna, cioè quella che per anni è apparsa al cinema come l'abbiamo sempre vista in tv. Certo, una rappresenta se stessa, senza giudici esterni, senza osservatori e l'altra invece appartiene totalmente al pubblico. Tutti credo quando escono dal proprio guscio mettono un po' la maschera, no? Così se ne esce lei e iniziando così l'intervista. Ricorda gli inizi della sua carriera all'età di 14 anni, la scelta del regista Damiano Damiani. Ricorda anche che è stata una ragazza madre a 18 anni e che non è stato facile. Per niente. Mia madre mi mise in guardia dalle responsabilità della maternità. Anche se in Italia l'aborto era illegale, all'estero si poteva fare tranquillamente e persino il mio agente cinematografico di quel periodo me lo consigliò, perché dovevo girare un film avrei dovuto abortire per fare un film. Assolutamente no! Quindi ho deciso di portare a termine la gravidanza. Ed è stata la miglior decisione della mia vita. Ornella Muti, mia figlia Nike? Mi consigliarono di abortire per fare un film celentano? Non mi ha chiesto il permesso di parlare di noi. Ricorda altri registi e attori. Anche Alain Delon. La verità è che ci hanno provato in tanti con lei. Quasi tutti. Ho passato la vita a difendermi dagli assalti degli uomini. Su Adriano Celentano preferisce non rispondere. Non è il caso di parlarne. Oltretutto è stato lui, una volta, a fare dichiarazioni in merito con sua moglie presente. Un errore da parte sua e io sono rimasta francamente un po' sorpresa. Che ci vogliamo fare? Questo è l'universo maschile. Io, a suo tempo, ho avuto rispetto della sua famiglia. Ma nonostante tutto, Ornella Muti o Francesca Rivelli crede profondamente nell'amore. L'amore è sempre qualcosa che mi ha guidato. Pensavo che la vita senza amore non si potesse vivere. Ho avuto un marito pazzesco, Federico Facchinetti, con il quale ho avuto due figli, Carolina, che ha 39 anni, e Andrea, 35, entrambi attori. Siamo ancora una famiglia e questo per me è un regalo. Quando vado a Roma, stiamo insieme anche con le sue altre due bambine, coi miei figli si amano, e questo per me è già un grandissimo dono. Poi invece per avere un nuovo partner, non lo so, mi piacerebbe. Ma è così difficile amare. E neanche. Ho sempre sentito la necessità di averla vicino. Lei si dedica molto a me, mi gestisce tante cose nel lavoro, ad esempio. Quando è nata, non solo ero piccola di età ma soprattutto piccola di testa. Forse per questo ho ancora dei tratti infantili. Guardando al suo passato amoroso si è resa conto che spesso facciamo diventare principi azzurri uomini che invece sono dei ranocchi. E proprio Nike l'ha accompagnata all'ultimo Sanremo. Un'esperienza che non le è piaciuta, non voglio sembrare un'ingrata, perché mi ha fatto grande piacere essere. E soprattutto che mi abbiano chiamata. Forse mi aspettavo una cura, un'attenzione diversa. Forse mi sono sentita un po' l'abbandonata. Probabilmente il problema è mio, lì è una macchina da guerra. Ognuno pensa a portare il suo, non c'era tempo per nessuno. Nel senso che se riesci bene, se no ciao. pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.